Tencati, una vittoria da Piacentino a Piacenza, che valore ha per te? Un valore grande, grande perché con ho solito Piacenza tre anni fa la speranza era questa, vincere qualcosa in questa società, in più abbiamo fatto noi due anni abbastanza difficili, dicevamo adesso con il Fise, con Davide che in questi anni abbiamo sofferto abbastanza, se pensiamo a due anni fa la partita salvezza con Roma, siamo riusciti finalmente a giocare una finale, ma vincerla era l'obiettivo principale di quest'anno, siamo contenti poi davanti al nostro pubblico che se l'ha meritato, perché ripetono due anni di sofferenza, però non ci hanno mai abbandonato, mai fatti sentire né soli né in colpa né niente, quindi se lo meritano tutto. Per la prima volta a Piacenza si poteva vincere un trofeo, almeno è stata giocata una finale a Piacenza, perché poi in realtà c'era stata anche gara 4 di finale Scudetto con Trento e non vi siete lasciati di sfuggere all'occasione, avete festeggiato una cosa importante con i vostri tifosi? Sì, oggi l'occasione era troppo ghiotta per farci scappare, siamo stati bravissimi, la Coppa ha vinto senza lasciare un set, una finale vinta con un 2-0 da ritorno, siamo appunto una squadra forte, perché sicuramente gli avversari incontrati fino adesso non sono stati sempre di primissimo livello, questi invece erano di assoluto livello, quindi bravi. Grazie.